Amici e amiche di RBS, say cheese, così dice un cartello di fronte a noi, noi diciamo cheese, sorridiamo e soprattutto vogliamo scoprire storie intorno al magnifico mondo dei formaggi, una produzione sostenibile, cosciente, una produzione che ha tante storie da offrirci, da svelare. Noi qui in diretta da Bra vogliamo proprio raccontarvi questo, storie di cambiamento intorno innanzitutto alle persone che fanno delle scelte, scelte consapevoli, scelte che portano a cambiare vita come quella di Stefania, Stefania è dorato con noi, ciao Stefania, ben arrivata. Ciao, grazie a tutti voi. Grazie per essere qui su RBS. Allora, storie di cambiamento, perché la vita a un certo punto per te era, sei ragioniera, massimo rispetto, sono ragioniera. Impiegato contabile. Impiegata contabile. E a un certo punto, quando hai deciso di cambiare, quando hai cambiato tutto e perché aprire, insomma andare a investire il tuo tempo, le tue energie, la tua passione, i tuoi sacrifici per un'azienda agricola, in particolare per la produzione di formaggio e di allevamento? Sì, cinque anni fa, in realtà l'azienda era già esistente da dieci anni perché era di mio fratello e poi cinque anni fa all'azienda dove lavoravo avevo qualche difficoltà e io ho deciso di farmi mettere in mobilità volontaria e di cambiare vita. Ok, quindi hai preso la tua vita in mano, hai detto ok vado, ci provo, magari insomma hai messo anche in discussione molto del tuo quotidiano, anche dei tuoi effetti, dei tuoi rapporti. Sì, ho cambiato la mia vita, ho cambiato quella di mio figlio perché insomma adesso ha la possibilità di avermi molto di più a casa, vicina, ho potuto seguirlo meglio e è davvero un cambiamento epocale della propria vita. Dove sei? Io sono di un piccolissimo paesino in provincia di Alessandria e sono a pochi chilometri dalla cittadina più piccola d'Italia che è Moncalvo e il mio comune si chiama Alfiano Natta. Natta? Natta. Ah, Natta, ok. Natta come la nata della bottiglia. Ok, noi salutiamo gli amici di Alfiano Natta e ringraziamo per essere qui con noi innanzitutto te Stefane perché mi è piaciuta molto la tua storia di cambiamento perché vogliamo un cambiamento perché Cheese nasce anche da questo, come è anche uno dei valori di Slow Food, il cambiare le abitudini, cambiare il modo di produrre il formaggio, l'allevamento, i prati stabili, ecco insomma tu in particolare so che produci formaggio e allevi capre, quante capre hai? Ho una tantina di capre camosciate delle Alpi. Perché quelle capre camosciate delle Alpi e non altre? Perché è un animale resistente però allo stesso tempo produttivo, unisce un po' l'utile al dilettevole, erano gli animali che aveva già mio fratello quindi ho ripreso proprio in mano quello che era il suo allevamento e mi sono specializzata nella produzione di formaggio. Quante volte hai sbagliato per poi ripartire? Beh, sbaglio ancora adesso, quindi poi noi siamo veramente soggetti a tutto quello che c'è attorno a noi perché il clima, perché insomma tutto quello che c'è attorno all'agricoltura influisce su quello che poi è il prodotto finale. Sai perché ti ho chiesto quante volte hai sbagliato? Perché non parliamo degli errori, ma gli errori sono importanti nella preparazione di un formaggio, come allevare gli animali perché ricordiamolo sono esseri viventi che ci danno uno scambio quello che avviene. E quindi insomma è importante anche valutare questo perché è formativo. Io dico che ogni formaggio è mio figlio, perché è una tua creatura e ogni formaggio è differente uno dall'altro perché non produciamo in serie e quindi davvero ogni forma è differente l'una dall'altra. Il formaggio di capra ha delle qualità incredibili, lo sappiamo, il formaggio che insomma è molto ricco di importanti elementi nutrienti e soprattutto permette anche di differenziare la propria dieta rispetto a un formaggio vaccino. Assolutamente sì. Qual è la differenza? Ricordiamo, fai finta di avere di fronte a te una persona che non sa, ecco che ti chiede, magari dice ma perché il formaggio di capra? Beh, è molto meno grasso rispetto al latte vaccino e questo però forse da un punto di vista di produzione a volte ci penalizza perché certe produzioni non le possiamo fare, però è comunque un latte molto più leggero, più digeribile e diciamo che siamo molto amici con i nutrizionisti perché ci consigliano per le diete. Beh, questo è importante insomma, è una cosa molto piacevole. C'è un discorso che ho avuto modo di affrontare con Bambara Nappini, la presidente Slow Food Italia, che riguarda la consapevolezza come consumatori e consumatrici. Noi siamo ormai abituati attraverso il marketing, attraverso la pubblicità, attraverso la grafica, le immaginine belle sui social, siamo abituati a comprare un ovetto di cioccolato con il latte dentro, chissà che il latte da dove arriva e pagarlo 90 euro al chilo. Perché non siamo abituati a pagare, a guardare i prezzi ed essere consumatori e consumatrici consapevoli. Come produttrice e come allevatrice trasferire anche questo quando siamo sul mercato, perché ovviamente bisogna campare, come possiamo trasferire, come comunicare tutto questo alle persone? Quanto è importante secondo te e come possiamo fare a capirne qualcosa di più? È un discorso sicuramente molto complesso, c'è un grandissimo lavoro da fare dietro, però penso che si debba far capire alle persone e al consumatore che hai davanti tutto il lavoro che c'è dietro a quel formaggio. Cioè dietro a quel formaggio c'è grande fatica, c'è la possibilità di perdere magari determinate produzioni perché c'è stata la grandine, perché c'è stato, non lo so, qualche problema nella mungitura. Cioè bisogna far capire veramente quello che porta alla produzione di quel formaggio. Quindi lì dietro poi le persone capiscono perché c'è un prezzo anziché un altro. Due, ancora due considerazioni che voglio condividere con te Stefania riguardo all'allevamento. Hai parlato di allevamento, le capre. Siamo abituati a vedere anche delle immagini, sappiamo quanto il prodotto industriale debba rivolgersi a allevamenti intensivi. Questi animali, ricordiamolo, il latte arriva perché sono animali mammiferi, ricordiamolo, animali mammiferi, quindi producono il latte perché aspettano i cuccioli e c'è tutta questa cosa qua. Come viene armonizzato tutto questo, ad esempio? Secondo te come possiamo armonizzarlo per non rendere queste capre, questi animali, dei produttori continui di latte? Ci deve essere un grande rispetto verso i nostri animali e capire che la mamma è sempre mamma e quindi ha bisogno anche di avere il suo caprettino vicino. Quindi noi abbiamo deciso di magari fare una mongitura in meno, però lasciare magari un po' di più il capretto insieme alla mamma, anzite toglierlo magari subito, ecco. Quindi non utilizzare il latte in polvere per i piccoli, ma lasciare il latte della mamma. Il latte in polvere si usa anche? Eh sì. I formaggi, per chiudere la nostra chiacchierata, ci sono formaggi freschi e stagionati, i formaggi di capra. C'è uno in particolare che mi ha colpito, il blu di capra. Perché blu? Qual è la differenza? Eh beh, il blu è qualcosa di... Vabbè, tu dici, parli... Delitte. Ma non lo spieghi. Diciamo che sto ancora imparando per la produzione del blu. Mi sono invece più impratichita, mi sono specializzata nei nostri stagionati. E quindi sto imparando pian pianino, perché è frutto di prove e di... E di pazienza. E di pazienza. Tanta pazienza. La pazienza per gli agricoltori e le agricoltrici, i produttori e produttrici di formaggi e allevatori e allevatrici. La pazienza. Tanta. Lasciarci così, Stefania, e la pazienza rispetto al tempo, al meteo e tutto quanto, e poi la produzione di animali, la cura verso questi animali e la produzione di formaggio e la soddisfazione di realizzarli. Eh sì, di vedere quello che fai, che è lì davanti a te e che viene apprezzato dagli altri. Stefania Dorato, grazie Stefania per averci raccontato la tua storia. Ti auguro tanta passione. Grazie a voi. Grazie ancora. Grazie mille. Arrivederci.